Scontro Lega Forza Italia, rottura tra i due partiti. Nel centro-destra le spaccature diventano insanabili. Il deputato della Lega Alessandro Pagano ha aperto all'unità della coalizione in vista delle amministrative, ma a condizione che si corra senza Forza Italia. Due incidenti stradali per la pioggia e di tre feriti il bilancio di due incidenti che si sono verificati stamattina sulla statale 115 verso Manfri e sulla provinciale 8 per Butera. In entrambi i casi ha influito l'asfalto reso viscido per la pioggia caduta oggi. Una perizia psichiatrica sullo scippatore. Per gli investigatori ci sarebbe lui dietro diversi scippi messi a segno in città negli ultimi giorni. Per ora il 25enne Grazio Pizzardi è accusato solo dello scippa di una donna nei pressi del cimitero monumentale. Estorsione al titolare di un bar con danne definitive. Erano tutti accusati di aver chiesto la messa a posto al titolare del bar Duomo in centro storico. Davanti al no dell'esercente avrebbero poi tentato di farsi giustizia aggredendolo. Retucci un debutto da sogno con il Gela. Il giovane attaccante biancazzurro segna il gol che decide la partita contro il Città di Messina disputata a San Cataldo. Il Gela consolida così la zona playoff e domenica prossima giocherà ancora in casa a Licata contro il Portici. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo subito con la pagina politica. Nel centro-destra le spaccature diventano insanabili. Il deputato della Lega Alessandro Pagano ha aperto all'unità della coalizione in vista delle amministrative ma a condizione che si corra senza forza Italia. Gli azzurri locali hanno risposto senza troppi giri di parole accusandolo di voler spaccare l'alleanza locale. Per l'ex parlamentare Pino Federico la Lega Gela non avrebbe alcuna intenzione di vincere. Sentiamo. La visita dei generali leghisti di venerdì sera ha allargato il solco soprattutto nei rapporti praticamente nulli tra salviniani e forzisti. Il deputato della Lega Alessandro Pagano ha aperto all'unità della coalizione in vista delle amministrative ma a condizione che si corra senza forza Italia. I maggiorenti azzurri hanno risposto senza troppi giri di parole accusandolo di voler spaccare l'alleanza locale. Per l'ex parlamentare Pino Federico la Lega Gela non avrebbe alcuna intenzione di vincere. Sono forme di difesa dietro delle scelte che ha fatto la Lega. Devono avere l'onestà intellettuale di dire che giustamente a Gela non lo è pagano come è sua tradizione e non vuole vincere. Quindi vogliono andare da solo perché devono portare il consenso all'europea e alla Lega ma ci sta. Io ho soltanto invitato la classe dirigente gelese della Lega di cercare di sedersi intorno a un tavolo se poi non si trova una convergenza è un altro discorso. Ma se tu già a priori perché c'è una litigiosità tra la Lega e il segretario regionale di Forza Italia non è motivo, non interessa in sé per sé i cittadini gelesi che all'ultima tornata ci hanno dato un grande consenso a centro-destro. I gelesi ci chiedono solo ed esclusivamente di metterci insieme e dare un buon governo a questa città. Quindi se qualcuno poi con la scusa della litigiosità tra il segretario regionale e la Lega regionale o nazionale qui non vogliono avere discussione con noi anche perché so che ci hanno anche giustamente delle questioni tra l'onorevole Pagano e l'onorevole Manguso ma questo ripeto alla gente non interessa. Quindi io non voglio fare polemica con nessuno. È stato l'onorevole Pagano che ha fatto un invito tutti tranne, significa da destra a sinistra a centro, tutti tranne Forza Italia. Va bene, ci sta, è una scelta che ha fatto, abbiamo soltanto detto che si assume la responsabilità politica, non c'entra nella storia, è un modo puerile di difendersi. È una scelta che hanno fatto, devono avere il coraggio di dire che quella è la scelta che per loro è la scelta migliore da fare. Punto. Poi attaccare altri su che cosa? Noi abbiamo soltanto fatto una valutazione politica sulla scelta fatta dall'onorevole Pagano a cui purtroppo la classe dirigente delle Lega di Gela stanno andando dietro attaccando in modo puerile. Ma la rottura definitiva la sanciscono proprio i leghisti del circolo ottenuto a battesimo dal senatore Stefano Candiani e da Pagano. In occasione della presentazione del circolo è stata chiara la posizione espressa dalla Lega, dicono i componenti del direttivo coordinato da Giuseppe Spata. Alle prossime amministrative andremo con quei movimenti civici e partiti di centrodestra che non hanno preclusioni nei nostri confronti. Preclusioni apparse evidente invece durante la confession di Cefalù di fine novembre. Gianfranco Miciche, coordinatore regionale forzista, è esortato a fare fronte comune contro la Lega in un tentativo evidente di isolare il partito in un crescendo di attacchi proseguiti anche nelle settimane a seguire. Oggi tutti i riferimenti locali di Forza Italia, Bartolozzi, Federico e Mancusa, attribuiscono alla Lega la responsabilità di spaccare il fronte del centrodestra e a Pagano di averlo sempre fatto. I leghisti sembrano scaricare Forza Italia attribuendogli una serie di incoerenze politiche ripetutesi nel corso degli anni. Nell'erscursus viene ricordato che nel 2015 Mancuso decise di correre da solo candidando a sindaco di Forza Italia un consigliere comunale uscente del PD impedendo per soli 717 voti alla coalizione di andare al ballottaggio. Nel 2010 l'MPA sostiene Fasulo con il quale governerà 5 anni esprimendo 3 assessori ed un vice sindaco. Miciche e Mancusa invece appoggiano la candidatura di speziare con la lista Sicilia Pensiero Libero. La Lega andrà avanti per la sua strada e Forza Italia per la propria. Per Federico il disegno sarebbe più ampio e porterebbe la Lega a favorire un sindaco 5 stelle. L'onorevole Pagana ha le idee chiare. È chiaro che nel momento in cui arriva a ballottaggio per esempio il candidato della Lega, dei 5 stelle, sicuramente appoggeranno quel candidato. Quindi portano, scendono nel territorio, nella nostra città, un'alleanza nazionale che ci hanno. Ci sta pure. Ma io quello che non riesco a capire è che non avere coraggio di dire qual è la realtà. Ci hanno un'alleanza, perché già lavorava a creare un'alleanza all'amministrativa tra la Lega e i 5 stelle. Hanno un governo nazionale insieme e quindi lo vogliono sicuramente portare anche nel reddito locale. O meglio, non lo vogliono pagare o lo vogliono portare nel reddito locale. E proseguiamo con un'ampia pagina di cronaca. Infatti è di tre feriti il bilancio di due incidenti che si sono verificati questa mattina sulla strada provinciale 115 verso Manfria e la 8 per Butera. In entrambi i casi ha influito l'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta stamattina. Per cause che sono in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada. Il primo bilancio è di un ferito che è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Vittorio Emanuele, ma senza particolari conseguenze. La Fiat Panda sulla quale viaggiava è finita fuori corsia in mezzo alla carreggiata. Un secondo scontro ha invece riguardato una Lancia Y con una Mercedes classe A. L'impatto tra le due auto è stato talmente violento che la Lancia è finita fuori dalla carreggiata, sul costone laterale. Sul posto si sono portate anche due macchine dei Vigili del Fuoco che hanno liberato uno degli occupanti della Lancia. In questo caso i due feriti, ovvero i conducenti delle autovetture, il primo soccorso in codice giallo per alcune contusioni. Più serie le condizioni del secondo conducente della Lancia Y, che ha subito un trauma cranico e rimane sotto osservazione. Va sottolineato che la strada è resa pericolosa per via dell'asfalto bagnato dopo la prima pioggia di stamani. Sul posto si sono portati anche la polizia stradale, i carabinieri per i rilievi di rito e per regolare il traffico stradale, tornato scorrevole a metà mattinata. Solo qualche mese fa la mobilitazione cittadina ha consentito di raccogliere fondi da destinare alle sue cure mediche. Nonostante gli sforzi di tanti e soprattutto della sua famiglia, Consuelo Scerra non è riuscita a sconfiggere il tumore al cervello che ne ha sancito la morte avvenuta nelle ultime ore. Enorme il cordoglio della stessa famiglia e dei tanti amici che ne hanno seguito la coraggiosa battaglia. Anche questa volta, come è capitato con centinaia di giovani vite spezzate prematuramente, il male non le ha permesso di ritornare a casa. Tra i suoi cari che non l'hanno mai lasciata sola. Per gli investigatori ci sarebbe lui dietro diversi scippi messi a segno in città negli ultimi giorni. Per ora il 25enne Grazio Pizzardi è accusato solo dello scippa ad una donna nei pressi del cimitero monumentale. E' stato fermato da un poliziotto libero dal servizio, è stato confermato il carcere, ma la difesa ha ottenuto una perizia psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere. Soffrirebbe di gravi disturbi mentali. Sentiamo. E' apparso piuttosto confuso e probabilmente con gravi patologie mentali. Il 25enne Grazio Pizzardi è arrestato dai poliziotti del commissariato con l'accusa di aver scippato una donna nei pressi del cimitero monumentale. Il giovane è stato bloccato dopo pochi minuti da un agente libero dal servizio che si è accorto di quanto stava accadendo. E' stato fermato mentre aveva ancora la borsa in mano, difeso dall'avvocato Salvo Macri. Sabato si è presentato davanti al giudice Tiziana Landoni. Avrebbe dato spiegazioni piuttosto vaghe, sostenendo di non ricordare nulla. Il pubblico ministero, Sonia Tramontana, ha chiesto la custodia cautelare in carcere, alla fine autorizzata dal magistrato. La difesa però ha ottenuto l'autorizzazione ad una perizia psichiatrica con l'ammissione al giudizio abbreviato. In aula si tornerà a fine gennaio. Il legale cercherà di provare la probabile assenza della capacità di intendere e di volere del giovane che sarebbe affetto da gravi patologie. I PM della procura e i poliziotti non escludono comunque che possa essere dietro ad altri scippi subiti da anziane donne negli ultimi giorni. Le indagini infatti sono ancora aperte. E ancora cronaca, salgono a due le vittime del grave incidente sul lavoro che lo scorso maggio si è verificato all'interno delle acciaierie venete di Padova. A causa di un crollo, materiale fuso si è riversato all'interno di uno dei capannoni, travolgendo alcuni operai, compreso il gelese 42enne David Di Natale. A fine dicembre è morto anche il 44enne Marian Bratu. Dopo un calvario durato mesi, le sue condizioni si sono aggravate proprio a causa delle gravi ustioni riportate. A giugno invece non ce l'ha fatta il 39enne Sergio Todita. I due operai erano quelli in condizioni più gravi. Di Natale a sua volta ha riportato profonde ustioni, ma i sanitari hanno evitato conseguenze peggiori. Non è stato investito per intero dal flusso del materiale incandescente. Al momento dell'incidente era alle dipendenze di un'azienda esterna. Le indagini per ricostruire la causa di quanto è accaduta e le eventuali responsabilità sono in corso. i PM della Procura di Padova hanno assegnato l'incarico ad un pool di esperti per le verifiche tecniche. Lo scorso agosto era stata disposta una proroga al termine di deposito della relazione. Sarebbero diversi gli indagati, compresi i vertici delle aziende impegnate nello stabilimento padovano. Si è svolto presso la sede dell'Antiracket Giordano un incontro con il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Baldassarre Deidona e il tenente colonnello Antonio De Rosa, comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela. Il comandante provinciale ha sottolineato i grandi passi fatti avanti in questi anni sul fronte del contrasto alle mafie e quindi ha invitato a stare in guardia rispetto alla scarcerazione per fine pena di alcuni esponenti di spicco della criminalità organizzata. De Rosa ha invece sottolineato l'importanza dell'impegno sul fronte culturale in relazione al conseguente facile assoldamento da parte delle consorterie mafiose di ragazzi irresponsabilmente sottratti alla scolarità. Unanime è stato il dissenso espresso riguardo ad una possibile militarizzazione della città ed è emozionante la testimonianza di Giuseppe Busso, vittima dei fatti di Alassio, che ha sottolineato che l'esercito più efficace sul versante del contrasto delle mafie è quello costituito dall'unione di tutte le vittime. Erano tutti accusati di aver chiesto la messa a posto al titolare del bar Duomo in centro storico davanti al no dell'esercente, avrebbero poi tentato di farsi giustizia aggredendolo. La corte di Cassazione ha confermato tutte le condanne, solo in un caso c'è stata la riduzione dell'entità del verdetto. Sentiamo. Sono stati respinti i ricorsi dei difensori di tutti gli imputati. L'unica eccezione riguarda la posizione del romeno Catalintoma, difeso dall'avvocato Giovanni Bellino, per il quale è stata annullata senza rinvio alla condanna, ma solo nella parte relativa alla contestazione del possesso di una pistola. L'entità del verdetto così si riduce a tre anni e due mesi di reclusione a fronte dei quattro anni decisi invece nei precedenti gradi di giudizio. E questa è la decisione emessa dei giudici della corte di Cassazione. Tutti gli imputati erano accusati di aver chiesto la messa a posto al titolare del bar Duomo in centro storico. Davanti al rifiuto avrebbero poi organizzato una spedizione punitiva. L'esercente riuscì ad evitare l'appestaggio rifugiandosi all'interno di un'altra attività commerciale della zona. L'arrivo di una pattuglia della Guardia di Finanza li condusse ad allontanarsi. Con la decisione emessa dai giudici romani diventano definitive le condanne impugnate. Tre anni e un mese di detenzione per Adrian Uncureanu, Nuccio Rinsivillo e Giuseppe Cannizzo. Tre anni ad Emanuele Cannizzo e Roberto Di Stefano. Sei mesi a Giuseppe Rinella. Il titolare del bar si è costituito parte civile nei precedenti gradi di giudizio. I legali di difesa invece hanno sempre messo in dubbio la ricostruzione fornita dalla vittima e dagli inquirenti tra gli imputati e l'esercente. Stando alla loro linea i rapporti sarebbero stati già molto tesi a causa di presunte provocazioni messe in atto proprio dal titolare dell'esercizio commerciale, tesi che però non è stata accolta dai giudici. Il commissario Rosario Rine è stato vittima nelle ultime ore di un infortunio che gli ha causato la frattura scomposta della clavicola mentre giocava a calcetto. Nonostante il dolore che lo obbliga a tenere immobile l'arto, rassicura tutti, assicurando che rientrerà subito in comune dove lo aspettano numerosissimi impegni. Adesso cambiamo argomento. Dal 1993 la palestra Snoopy si è sempre distinta per professionalità e competenze, portando sempre all'interno della propria struttura tante novità del mondo del fitness. Lo scorso fine settimana la struttura diretta da Massimo Catalano ha festeggiato 26 anni di attività, aprendo le porte della struttura con delle lezioni gratuite. Vediamo. 26 anni di attività non sono pochi, anche se il tempo si è passato così velocemente, segno di grande operatività sul territorio della palestra Snoopy che da anni offre un servizio professionale sempre a disposizione delle necessità del cliente. Lo scorso fine settimana la palestra diretta da Massimo Catalano ha festeggiato 26 anni di attività con due giorni di servizi gratuiti. Tanti gli ospiti e le attività svolte, walking, step, muay thai, fit and box e group cycling. Group cycling è un'attività cardiovascolare, grazie all'ausilio di una bicicletta statica proponiamo delle pedalate che si fanno normalmente fuori, quindi pianura, salite, montagne, come obiettivi al potenziamento e lo sviluppo della resistenza. Noi abbiamo un ottimo rapporto e un'ottima collaborazione con tutte le palestre dei vari centri qui a Gela. Questa è la prima per l'anno 2019 di una collaborazione. Speriamo che continui a seguire anche con altri istruttori di altri centri. Dal 1993 la palestra Snoopy si è sempre distinta per professionalità e competenze e portanto sembra all'interno della propria struttura tutte le nuove attività del mondo del fitness. Ancora oggi abbiamo tanto entusiasmo e con tanto entusiasmo accogliamo la gente che è numerosa non solo oggi ma durante tutta la stagione. Vuol dire che la palestra Snoopy è riuscita a rimanere un po' sempre sulla cresta dell'onda. Ci siamo sempre aggiornati, abbiamo cercato di dare sempre le novità ai nostri allievi e loro di conseguenza sono sempre presenti. Magari siamo alla seconda generazione, prima venivano i genitori, oggi vengono i figli, però l'importante è esserci, siamo qua. Ultimamente abbiamo intrapreso questa bella attività che è il walking, stamattina abbiamo fatto due belle lezioni con istruttori, amici miei sono venuti da fuori, Dario Bordi e Gabriella Iosa. Stiamo praticando tanto il functional training che è un'attività bella, metabolica, che coinvolge tanta gente e group cycling che è un'attività storica assieme allo step l'abbiamo fatto ieri e oggi e queste sono quelle attività che invece ci portiamo sempre, da sempre nel tempo. Una bella novità pure che abbiamo proposto negli anni è stata il real ball e poi il pilates che è un'attività olistica che abbiamo intrapreso anche noi da qualche anno che invece va più sul posturale, sulla capacità respiratoria eccetera. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Abbiamo anche la gestione del centro sportivo Pignatelli dove facciamo scuola di calcio e abbiamo una brava atleta che fa pure delle gare nel bodybuilding ma ci siamo evoluti anche nei servizi nel senso che oggi c'è il personal trainer che diversi anni fa non aveva modo di esistere, abbiamo dei consulenti sulla nutrizione e tante analisi corporee che magari prima erano lasciate più a delle misurazioni più grossolane e oggi invece ci sono un rapporto più scientifico con il servizio che riusciamo a dare con le misurazioni che facciamo alle persone che hanno voglia di alzare la sticella e di fare qualcosina in più. Quindi veramente tante cose cambiate. Tutti gli istruttori sono assolutamente qualificati e cerchiamo di dare sempre il massimo aggiornandoci, studiando e di conseguenza dando poi alle persone quelle che sono veramente le cose buone da fare. Quindi tanto allenamento, una buona nutrizione, tanta voglia di fare e soprattutto tanta passione. La Torre di Mampria sul profilo Instagram di Land Rover Italia i gestori del profilo aziendale hanno deciso di pubblicare lo scatto realizzato da un cliente locale che ha voluto ritrarre la sua Range Rover Sport proprio a ridosso di quello che dovrebbe essere uno dei siti archeologici da rilanciare. Un profilo che vanta quasi 90.000 follower e che potrebbe contribuire a diffondere il sito di Mampria anche in altri canali. Invito concessionaria e rivenditori presenti sul territorio ha commentato il sindacalista Ignazio Giudice ad operare la medesima scelta. È un'operazione a costo zero ma di grande generosità. La ritengo una proposta politica. Con la carenza di strategie turistiche per mettere in mostra i siti della città anche Instagram e importanti aziende potrebbero essere utili. Prenderà il via mercoledì 16 gennaio alle 19 presso l'Aula Formazione di Via Ossidiana numero 23 a Gela il percorso formativo promosso dalla Procivis e vogliono iniziare un percorso di volontariato socio-sanitario. Il corso è strutturato in lezioni. Il corso di livello base della durata di 36 ore complessive suddivise in più lezioni consente di acquisire l'attestato di soccorritore di livello base che consente l'esecuzione di servizi di trasporto sanitario ordinario con l'ambulanza di missioni, ricoveri programmati trasferimenti ospedalieri trasporti per visite specialistiche ed esami diagnostici e lo svolgimento in supporto ai soccorritori esperti di livello avanzato negli interventi a bordo delle ambulanze di primo soccorso nell'ambito dei servizi di emergenza sanitaria territoriale. Possono partecipare i cittadini che si vogliono avvicinare al volontariato sanitario sulle ambulanze a partire dal sedicesimo anno di età. Lo sport Il giovane attaccante biancazzurro segna il gol che decide la partita contro il Città di Messina disputata a San Cataldo il Gela consolida così la zona playoff e domenica prossima giocherà in casa allicata contro il Portici il servizio è di Fabrizio Parisi. Primo successo dell'anno per il Gela nell'anticipo di campionato contro il Città di Messina decide il match giocato sul neutro di San Cataldo il giovane Mattia Retucci al debutto assoluto lui che è gelese con la maglia bianco-azzurra. Il tecnico Bruccoleri ha dovuto rinunciare a Polito squalificato due assenti anche nelle città di Messina il portiere Paterniti e il difensore Fragapane. Gara non molto bella nel primo tempo si gioca con un vento trasversale e una temperatura piuttosto rigida poche le occasioni alla prima parte del match al tredicesimo ci prova Schisciano con un tiro dalla distanza tiro a fil di traversa al ventiduesimo ci prova invece Sove con un diagonale dalla destra face la parata del portiere giallorosso ospite. Si gioca con molti palloni da fermo e al ventisettesimo ci prova Misale direttamente su punizione palla veramente vicinissima al palo alla destra del portiere del Città di Messina. Per vedere un'altra occasione nel primo tempo occorre attendere il trentacinquesimo su un lancio lungo dalla destra Sove riesce largo a dare a Favero con un tiro da circa 20 metri che finisce di pochissimo alto. Si va negli spogliatoi nella ripresa la gara si fa sicuramente molto più divertente e ricca di occasioni. Al terzo minuto ci prova Mannoni su punizione con Sicignano Brugaletta e Retucci che per un soffio non arrivano con il tapin vincente. Dopo quattro minuti la ripresa si fa male il difensore Berra per il Città di Messina al suo posto entra Bellopede. Al quinto grandissima occasione per gli ospiti con Godagnone bravissimo a girare di testa un pallone che finisce di pochissimo al lato con Castaldo Immobile. Al settimo ancora opportunità questa volta per il Gela con Mannoni che gioia largo per Ragosta che si accentra lascia partire un tiro che finisce di pochissimo al lato. Al decimo arriva il gol partita lo segna proprio lui il nuovo entrato il debuttante Mattia Retucci gelese classe 2000 che riceve un pallone dalla destra per Sowe e batte il portiere del Città di Messina. L'esultanza del giovanissimo attaccante del Gela sotto la tribuna dei tifosi bianco-azzurri. Grandi proteste il Città di Messina al tredicesimo per un primo gol annullato a Codagnone per un fallo su un avversario. al diciottesimo c'è un cross di Favaro dalla destra per il Gela esce a vuoto il portiere del Città di Messina a Sowe di testa incredibilmente manda a lato. Al ventunesimo ancora un altro gol annullato al Città di Messina per un fallo di Nicosia su Schisciano. Al ventiquattresimo ci prova Ferraù dalla distanza e bravo il portiere del Gela Castaldo a deviare in calcio d'angolo. E ancora proteste veventi del Città di Messina al ventottesimo quando Galesio supera anche Castaldo ma fallosamente per il direttore di gara. L'ultima occasione arriva al trentatresimo con Ragosta che sempre dalla sinistra lascia partire un tiro che viene deviato dal portiere del Città di Messina Sowe arriva in ritardo per il 2-0 e dopo sei minuti di recupero finisce la partita terza sconfitta consecutiva per i giallorossi prima vittoria del 2019 per il Gela A fine partita Chiara Caffà ha intervistato il tecnico Bruculeri e l'autore del gol Mattia Retucci che ha dedicato la sua rete a nome di tutta la squadra all'ex presidente Angelo Tuccio scomparso lo scorso 30 dicembre Sentiamo Un debutto da sogno quello del giovanissimo Retucci approdata a Gela nella tarda serata di venerdì è messo da subito negli undici titolari da mister Bruculeri una scelta azzeccata infatti il giovane attaccante ha deciso con una sua rete la sfida contro il città di Messina non mi aspettavo di scendere in campo dal primo minuto infatti ringrazio il mister che mi ha dato fiducia dal primo minuto ringrazio anche la società che mi sta dando questa opportunità e io voglio di comunque ripagare questa fiducia da parte della società prima della partita mi ha parlato mi ha spiegato un paio di movimenti mi ha dato qualche consiglio e soprattutto ringrazio anche i miei compagni di squadra i più grandi che dal primo minuto mi hanno dato fiducia e consigli comunque non era una partita facile perché il Messina era una squadra abbastanza organizzata siamo riusciti a portare i tre punti a casa soddisfatto è il tecnico Bruculeri della partita svolta dei suoi uomini soprattutto dopo il pareggio dell'ultimo turno contro Ligia Virtus un successo che dà ossigeno alla classifica dei gelesi dopo aver passato il mandaggio abbiamo sofferto ci siamo leggermente abbassati abbiamo concesso ma non abbiamo concesso tante balle golle solo discursivamente qualche spizzata per cui penso che il nostro portiere non è stato molto impegnato nel secondo tempo tranne qualche parata di ordinare amministrazione loro avevano sono organizzati molta fisicità in avanti e queste spizzate chiaramente mettevano difficoltà noi dal canto nostro è normale che forse oggi non abbiamo fraseggiato non abbiamo tenuto palla ci siamo abbassati e poi abbiamo sofferto nei minuti finali però lo squadra ha reagito abbastanza bene e alla fine penso che la vittoria sarebbe verità è una vittoria dello spogliatoio quando concerne il discorso di ragazzo giocato in un ruolo dove oggi mi veniva a mancare Polito e ho dovuto abbassare la vardera terzino destro che magari l'ha fatto abbastanza bene pur non essendo il suo ruolo questa è una vittoria dello spogliatoio dove ha accolto a braccia aperte questo ragazzo e l'ho accettato e il ragazzo è stato ripagato della fiducia data la Melfast Basket cade sul parquet dell'Olimpia Comiso per 109 a 100 un match tiratissimo con i gelesi che hanno subito il fattore campo non sono serviti i 40 punti realizzati da Enion MVP della gara con Savarese del Comiso una sconfitta che fa rimanere Biancorossi in testa alla classifica quota 20 punti ma in compagnia del quintetto ragusano e adesso il volley sconfitta netta per il volley i gel al palacossiga il sestetto rosa perde per 0 a 3 contro Giavi Pedara Volley questi parziali set 10-25 13-25 14-25 le ragazze di Cocce Tandurella rimangono a quota 7 punti in classifica ridosso della zona play out prossima gara in trasferta sul difficile campo della capolista Siracusa inizia male invece il nuovo anno per il futsal gel il quintetto locale perde sul parquet della PGS Luce Messina per 3 a 1 una gara sofferta per il quintetto locale che continua il trend negativo in classifica i biancorossi occupano l'ultima posizione a quota 3 punti pareggio interno per il gelafuzza al femminile nell'ultima gara di girone di Champions Cup grazie a questo risultato 4-4 contro Montallegro le ragazze di Mr. Buscemi staccano il passo per il turno successivo chiudendo il girono al primo posto a quota 7 punti domenica turno di campionato nella sfida interna ancora contro Montallegro Fabrizio Trainito confermato presidente del consiglio direttivo di Conf Commercio Ascom Gela Dario Lisciandre invece vicepresidente Paolo Armando Grimaldi invece vicepresidente con delega al commercio Rocco Darma vicepresidente con delega al turismo Gaetano Massimiliano Puglisi consigliere con delega servizi bancari e di credito Ugo Costa consigliere con delega alla formazione Maurizio Casco consigliere con delega alla rappresentanza degli insediati nella zona industriale di Gela Ennio Greco consigliere con delega allo sviluppo commerciale del centro storico e adesso un appuntamento per 15 gennaio quando le classi quarta e quinta dell'istituto Pedà e padre Giovanni Minozzi si recaranno in visita presso gli scavi di via Genova nella guida saranno seguiti dal team di archeologi presenti in loco e dal coordinatore delle attività didattiche Nuccia Ferrigno questa era l'ultima notizia per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito una buona giornata a tutti voi Grazie a tutti